La Juventus ha vinto con facilità la partita che forse temeva di più in questo scorcio finale del torneo. Dopo aver corso un grosso rischio in apertura di gara, i bianconeri hanno comandato il gioco a loro piacimento e contro una Lazio che con il passare dei minuti si sfaldava in ogni reparto, hanno finito per stravincere. Di tutto rilievo oggi nella Juve è la prova di Furino, di Causio, di Morini e di Cucureddu, mentre un capitolo a parte tocca ad Anastasi che è entrato in lizza al venticinquesimo della ripresa, ha siglato tre reti, una dopo l'altra, una più bella dell'altra, nel giro di quattro minuti, un'impresa che nella nostra memoria non ha riscontro. E il quinto minuto da Chinaglia a Rececconi, il quale controlla agevolmente, è contrastato da Viola, però riesce a centrare ugualmente, corto rinvio di Scirea, poi Capello tocca incautamente verso Zoff, guizzo di Garlaschelli che coglie la traversa. Sul corner di Causio svetta Altafini e infila in splendida elevazione. È il decimo minuto. Al ventiseiesimo nitida manovra Altafini, Furino, Capello con gran tiro dell'interno che Pulici para a fatica. Sul finire del tempo Capello serve Morini che tocca per Causio, bel palleggio e secco tiro da lontano che Pulici pare in due tempi. La ripresa, qui vediamo la fine del primo tempo, la ripresa comincia con una secca sberla in corsa di Causio, Pulici devia in corner, sul quale Rececconi prima pasticcia, poi dopo un corto rinvio di Pulici salva. Quindicesimo su corner di Nanni, la ripresa è a rallentatore, testa di Wilson per D'Amico che serve Garlaschelli, tiro fiacco e allato. Sedicesimo immediata replica juventina e sul teso cross di Cucureddu, Bettega in corsa centra il palo. Al venticinquesimo entra Anastasi ed esce Bettega. Poco dopo c'è uno scambio chinalia d'Amico che pressato da Capello tira fuori. Trentacinquesimo, Anastasi ruba la palla a Nanni, poi tira forte, Pulici blocca in tuffo. Quattro minuti dopo c'è un ottimo spunto di Causio sulla linea laterale, Causio si libera di Badiani e centra basso, Anastasi mette a segno di collo destro, Juventus 2, Lazio 0. Quarantunesimo, corner di Causio per Capello che centra, deviazione volante di Anastasi e rete imparabile. Quarantatresimo, Caparbi a azione di Viola che riconquista la palla su Rececconi, controlla e calibra un pallonetto che coglie la traversa. Anastasi riprende di testa e centra il palo, poi con secco destro in fila Pulici. 4 a 0.